Sarà chiaramente dimezzato, quindi da 8 si passerà a 4, quindi la competizione si fa ancora più stretta e noi ricominciamo così come nella prima rotazione con la squadra olandese dove ritroviamo Casimir Schmidt impegnato al suolo. Inizia molto bene, doppio raggruppato con mezzo avvitamento e i doppi salti avanti diventano sempre più gettonati, qui era ribaltato e doppio carpiato e poi un perfetto zucara, notate come gli atterraggi siano assai curati ancora, 3 volte doppi avanti già. Frontali russi, fase di combinazione, elementi indispensabili per completare un esercizio che deve, anche in questo caso, ottemperare all'esigenza di avere determinate famiglie di elementi per avere il massimo della valutazione. Ultima diagonale, gettonatissime, 3 avvitamenti dal salto teso, gettonatissime ad alti livelli ovviamente perché proporre un salto teso con triplice avvitamento non è sicuramente cosa da tutti. Ecco qua la ribaltata e il doppio carpiato avanti, molto curato, tanto di grande elevazione, poi molto curato nell'esecuzione così come nella fase di atterraggio.